Saranno gli accertamenti disposti dalla Procura a dire come e perché è scoppiato l'incendio che nella serata di venerdì scorso ha completamente distrutto il negozio in via Roma e il magazzino sul retro in via dello Sprone di Stoccausa Abbigliamento. Il sostituto procuratore Lorenzo Boscaglia ha disposto una serie di analisi sui reperti prelevati dai vigili del fuoco la sera stessa del rogo e il giorno successivo per stabilire se si sia trattato di un incendio doloso oppure di un incendio accidentale. L'obiettivo è ricostruire lo scenario del rogo e accertare eventuali responsabilità nel caso venissero individuate tracce di sostanze acceleranti, vale a dire sostanze in grado di dare maggiore rapidità alla combustione o spiegare i motivi dell'innesco se invece emergerà l'accidentalità del rogo. I locali sono stati sequestrati proprio per dare modo agli investigatori, i vigili del fuoco e i carabinieri di svolgere tutti gli accertamenti necessari ai fini dell'inchiesta. L'incendio è divampato subito dopo la chiusura, chiusura alle 20.10 circa, alle 20.30 l'allarme. Magazzino e negozio erano pieni di merce, materiale che alimenta facilmente il fuoco e questa potrebbe essere la spiegazione della grande rapidità con cui le fiamme hanno preso campo. Un'attività storica allo stoccausa abbigliamento aperta nel 1985 da Agostino Morotti. L'imprenditore non si spiega cosa possa essere accaduto, dice di non aver mai ricevuto minacce e dice che magazzino e negozio sono sempre stati pieni di merce.